Noi dell'Italia Valore abbiamo votato contro, oggi leggo sui giornali che effettivamente bisogna cambiare Limoli perché lo dice Monti e perché lo dice Bersani e perché lo dice Berlusconi, ma benedetto il Signore, bugiardoni che non siete altri e perché l'avete votata questa legge se sapete che è sbagliata? Noi eravamo quelli massimalisti, populisti perché ci opponevamo a questa legge ed oggi lo dite pure voi, noi eravamo forse contadino, ma scarpe larghe sì, ma cervello fino. Grazie